Michele Pianetta, buonasera. Eccoci, buonasera, grazie per l'invito. Benvenuto, benvenuto davvero, perché quando incontriamo un festival, noi, del posto delle parole, andiamo incontro al festival per capire, curiosare e soprattutto, non me ne voglia, soprattutto i piccoli festival, perché nei festival cosiddetti piccoli c'è una energia veramente straordinaria, l'energia che c'è nei dialoghi Eula-Vila Nova-Mondoli. Siamo in provincia di Cuneo, Michele Pianetta è il vice sindaco, se non sbaglio, di Villa Nova-Mondoli ed è qui insieme con noi per raccontarci la nuova edizione dei dialoghi Eula. Io vorrei subito focalizzare la denominazione Dialoghi Eula. Per chi non conoscesse Eula, ce la vuole raccontare? Sì, la scelta è stata un po' quella che voi raccontavate in apertura, quindi l'idea di dire partiamo da una comunità medio-piccola, perché in Piemonte ci sono oltre mille comuni sotto i mille abitanti, noi che ne abbiamo poco più di 5.500 sembriamo già grandicelli, invece la realtà è quella di una dimensione di provincia, la profondissima provincia cuneese come la individuiamo noi. E quindi nove anni fa, quando siamo arrivati in amministrazione, abbiamo deciso di rendere omaggio a questo cittadino villanovese illustre di anni e anni prima, quindi Lorenzo Eula, ministro di Grazia e Giustizia nel governo Giolitti, quindi parliamo davvero di un'era fa, un po' dimenticato anche dai nostri concittadini e lo abbiamo individuato anche come motivo per parlare di buona politica. Quindi Eula era un personaggio ricordato da tutti a suo tempo come un personaggio in grado di fare politica, di fare amministrazione e quindi ci sembrava giusto raccontarlo e lo abbiamo fatto nel suo nome con un festival che parla di buona politica, che non è soltanto uno slogan per dire che c'è la politica buona e c'è la politica cattiva, ma è anche un po' un modo di coinvolgere la nostra comunità locale che è una comunità comunque piccola. La comunità comunque piccola però ovviamente lo sguardo si allarga verso il mondo perché oggi come oggi, in questo tempo di sicuro scomento Michele Pianetta, possiamo prendere atto che la buona politica è sempre più necessaria, anzi direi più che necessaria è vitale oggi, la politica che traguarda il senso tattico dello spostamento della decisione ma riesce a guardare un pochino più in va e forse il senso di questo festival è anche questo. Sì, è proprio così, nel senso che la manifestazione ha un leitmotiv che è un po' quello di raccontare le esperienze interessanti che arrivano un po' da tutta Italia. Ci sono ovviamente i grandi nomi che sono i testimonial della manifestazione ormai dagli albori e quindi abbiamo avuto qui a Villanova Mondovì, che non è propriamente al centro del mondo, nonostante io facendo il vice sindaco qui lo interpreto un po' in questo modo… Per lei è il centro del mondo di sicuro, deve esserlo. Deve esserlo, esattamente. Abbiamo avuto a Villanova Enrico Letta, abbiamo avuto Gianfranco Fini, Marco Minniti ci ha incantato con una lezione sulle politiche anche della sicurezza, quando di sicurezza si parlava molto meno, eravamo ovviamente nell'ante Covid e nell'ante conflitto russo-ucraino. Quindi diciamo che l'obiettivo era quello di portare dei grandi personaggi sulla scena locale, ma anche di raccontare delle esperienze che arrivano da territori lontani dai nostri. E quindi non a caso domani tra gli ospiti che interverranno ci sarà Nona Michelizze che parlerà anche di geopolitica, ma parlerà secondo me soprattutto di una visione di paese che è un po' quella che dovrebbe accompagnare i nostri territori. Nona Michelizze, per i nostri ascoltatori, chi è? È un'opinionista, o meglio è una ricercatrice, una ricercatrice dell'OIAI, si occupa… L'Istituto Affari Internazionali. L'Istituto Affari Internazionali, esatto, noi abbiamo avuto in passato anche Magri che è il direttore… Lucio Magri. No, abbiamo avuto Paolo Magri. Paolo Magri, è vero, li confondo sempre tra i versi. Sì, che è un personaggio che quando è venuto a Villanova e si era tra l'altro collegato era non così noto. Poi i nostri concittadini hanno iniziato ad incontrarlo tutte le sere al TG1 delle ore 20 e quindi si sono resi conto che forse l'ospite che era venuto qui era un ospite di altissimo livello come peraltro già avevamo individuato. Per tornare a Nonna Michelizze la scelta di andare su una relatrice di questo tipo è stata poi anche confortata da questo gesto un po' eclatante che lei ha fatto insieme ad altri due colleghi, ovvero quello di non partecipare ai talk show dove venivano invitati dei soggetti filoputiniani. Quindi diciamo che è un personaggio coraggioso che siamo contenti di avere qui nel Morregalese. A chiudere la mattinata, dopo Nonna Michelizze con Stefano Quintarelli e Ivette Agostini, chi avremo? Avremo un panel molto interessante sul giornalismo, il giornalismo di guerra, quindi ci sarà Cesare Martinetti già corrispondente della stampa da Mosca, da Parigi, oggi editorialista, è stato anche vice direttore del quotidiano torinese che modererà questo dibattito con Domenico Quirico, anche lui della stampa e con Cecilia Sala. Cecilia Sala secondo me rappresenta anche un po' la filosofia di questa manifestazione, quindi lei giornalista molto giovane che decide di andare un po' in autonomia in Ucraina a raccontare in modo inedito il conflitto, non soltanto sulle colonne di un quotidiano, la sala scrive per il foglio, ma anche attraverso delle stories di Instagram. Quindi questo nuovo modo di arrivare alle generazioni più giovani attraverso media che non sono quelli tradizionali, quindi io credo che sia anche un buon modo per dire dove vogliamo andare, quale sarà la direzione del festival negli anni futuri. Sì, perché poi un festival prepara sempre l'edizione successiva necessariamente, quindi che sia piccolo o che sia grande il festival non importa. I nostri ascoltatori possono collegarsi interneticamente per comprendere di più a che sito, Michele Pianetta? Al sito dialoghieula.it, alla pagina Facebook Villanova Mondovi Turismo e Manifestazioni, che è il canale ufficiale del comune per tutto ciò che riguarda gli eventi. Ci sarà anche una diretta Twitter, quindi diciamo che vari strumenti per poter partecipare quasi in tempo reale all'evento. E quindi per allargare ovviamente con la diretta Twitter, per allargare la platea e rendere fruibile anche a chi non è direttamente protagonista tra il pubblico a Villanova Mondovi in provincia di Cuneo, vorrei ritornare Michele Pianetta su quello che i pubblicitari direbbero il claim o il pay off, cioè il festival della buona politica. Perché avete scelto questa frase? È stata una scelta anche un po' coraggiosa, perché di politica sono pochi i festival o comunque gli eventi pubblici che vogliono parlare. Lo si fa sempre dal nostro punto di vista con un taglio quasi scandalistico, quindi andare ad individuare delle storie che non sono storie positive, di mala politica, di mala gestione delle cose pubbliche. E quindi voler insistere su questa necessità di raccontare la buona politica, raccontare le buone esperienze di chi decide di rimettersi al servizio degli altri, perché poi la politica fondamentalmente questo è, crediamo che sia anche un po' un imperativo. Farlo nella profonda provincia per tornare a quello che dicevi in apertura è ancora più sfidante. Eh sì, è ancora più sfidante perché la provincia non è una zona, uno spazio dimenticato, ma la provincia è un territorio che ha un humus importante. E quindi se dalla provincia nascono anche delle iniziative culturali come i dialoghi di Eula, vuol dire che la provincia è attiva e non sempre i festival devono per forza di cose essere nelle grandi città. Perché a noi, come ho detto in apertura, piacciono i piccoli festival? Perché i piccoli festival sono anche nei piccoli centri e questo sta a significare una vitalità molto importante della provincia. E i dialoghi di Eula ne è la testimonianza, che ne dice? Sì, sono d'accordo. Testimoniano una vitalità che qui, io poi ovviamente parlo dell'osservatorio della provincia di Cuneo, ha altri esempi importanti da raccontare. Bene uno, scrittore in città, che è questo festival letterario che la città di Cuneo organizza tutti gli autunno ed è quasi un'occasione per rimarcare l'importanza della provincia anche nello schema delle politiche culturali, ad esempio. Noi facciamo molta fatica a far comprendere ai nostri redattori che organizzare un evento qui significa per intanto caricarsi di tutta una serie di costi diretti ed indiretti che nelle grandi città non ci sono. Perché immaginate anche voi cosa vuol dire organizzare un transfer da Roma per Villanova-Mondovì dove ci sono almeno quattro passaggi. Roma-Torino, Torino-Mondovì, Mondovì-Villanova. Per cui diciamo che se un ospite viene a trovarci deve proprio averne voglia e deve proprio essere convinto. Quindi è anche un modo diverso secondo me di interpretare le manifestazioni culturali. Lo convincerà sicuramente lo spazio intorno, la natura, il paesaggio, l'ottima cucina di Villanova-Mondovì e tante altre cose perché non bisogna dimenticare perché partecipare a un festival. Mi scusi se la metto su questo piano, Michele Pianeta, ma io lo dico sempre anche, e mi perdono se parlo di me e compio quest'atto di vanità, per me andare ai festival sa che cosa rappresenta? Rappresenta anzitutto andare agli incontri, ma poi soprattutto rappresenta il momento del turismo che sia da una parte o dall'altra, non importa, lontano, vicino dove abito e poi rappresenta, se sono lontano, anche una scoperta della cucina, una scoperta del territorio. Il festival serve anche a questo, è la ricaduta sul territorio che è importante. Certo, certo, sono assolutamente d'accordo. Si tratta anche di vivere una realtà e di immergersi tra le stradine del nostro centro storico, ad esempio il festival si svolge in questa chiesa trecentesca nel borgo medievale, quindi è vero, sono molto d'accordo, questa è la forza della manifestazione. E quanto mi spiace non poter essere a Villanova Mondovì domani, perché impegnato il posto delle parole è da ben altra parte a incontrare altri pubblici per raccontare libri e intanto a proposito di libri, Michele Pianetta, le nostre conversazioni terminano sempre con una solita domanda, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Guardi, io sto leggendo il libro di Paolo Fresco che racconta la sua esperienza di grandissimo manager che ha poi deciso di rientrare nel suo paese d'Italia dopo una grandissima carriera all'estero e tra l'altro proprio prima raccontavo un episodio di Fresco che secondo me denota anche un po' collegandomi ai dialoghi Eula, quale possa essere la direzione auspicata, ovvero l'idea di non farsi trascinare dalla quotidianità ma la necessità di ogni tanto di fermarsi, di guardare, di provare ad immaginare quali sono le proprie aspettative, a prescindere dal rincorre del quotidiano. Io credo che questo sia forse il messaggio più bello da raccontare e anche da consegnare a voi. Le chiediamo ancora qualche minuto perché l'immagine di Paolo Fresco è un'immagine che rappresenta proprio un po' il ritorno dei cervelli dall'estero all'Italia. Quest'uomo mi pare Ligula e compagno di scuola di Paolo Villaggio che va all'estero e diventa un uomo veramente ambito da società multinazionali e fa veramente una carriera straordinaria. Sì, la sua storia è esatto, di persona molto legata al territorio in cui nasce, in cui poi cresce, quindi Lombardia prima, Liguria poi e poi questa carriera internazionale di altissimo livello, numero 2 di General Electric, che viene chiamato alla Fiat da Gianni Agnelli per la successione a Cesare Romiti, quindi un incarico non propriamente agevole in una stagione difficilissima. In una stagione, infatti, difficilissima dopo la sconfitta di Romiti, tra l'altro. Assolutamente. E l'idea di Fresco di costruire poi questa operazione con Chrysler, o meglio prima con GM, che diventa poi anche un po' il preludio a quello che sarà l'accordo tra Fiat e Chrysler, poi ovviamente non sancito da lui, bensì da Marchionne. La frase che Marchionne dice, ovvero che Fresco sei stato uno dei pochi che mi ha consentito di sviluppare un percorso positivo, credo che dica anche molto sul ruolo che ha avuto. Poi ovviamente il livello del manager non si discute, però penso che anche la scelta longemerante di vedere la Fiat come un pezzo di un ragionamento molto più ampio abbia poi oggi avuto le sue risposte, anche nella recentissima fusione che ha portato poi a Stellantis. Grazie davvero Michele Pianetta e buon festival. Grazie a voi, alla prossima.